Michela Duro e Cristina Tanca sono le studentesse del liceo artistico Mazzara, le autrici dei bozzetti e dei costumi che indosteranno Malmozzetto, il conte e la contessa, nelle manifestazioni che si terranno a prezza nella prossima estate. Michela Duro è l'autrice del bozzetto riguardante il costume di Malmozzetto, mentre i bozzetti del conte e della contessa sono stati disegnati da Cristina Tanca, liceale di origine albanese. All'inizio era un po' difficile perché non ci troviamo bene con il periodo e quindi dovevamo stare attenti perché non devono essere cose molto esagerate, però alla fine ho cercato di farli simili così da poterli mettere a confronto insieme. Beh, comunque lo studio è stato tanto anche perché abbiamo dovuto studiare i tipi di tessuti in base anche alle classi sociali di quell'epoca. È stato un bel progetto perché comunque ci ha permesso di confrontarci anche con il mondo esterno alla scuola. Si chiude così la prima fase del progetto Malmozzetto che è entrato nelle scuole grazie all'intesa trovata dal comune di prezza e l'istituto di istruzione superiore Ovidio. Ora si passerà alla fase 2, quella decisiva che prevede la realizzazione dei bozzetti. Intanto stamani il sindaco di prezza Marianna Scoccia e la dirigente del Polovidio Catrina Fantauzzi hanno premiato gli studenti che ricevono un attestato e un premio in denaro di 100 euro alla presenza della commissione composta da Umberto Malvestuto, Angelo Gianmarco, Gianni Damario, Pietro Beccatini e Pasquale Dalberto. I criteri sono stati prima di tutto quello di un'attenenza storica perché comunque è un dramma storico che rappresenta un periodo ben preciso. Siamo alla fine dell'anno 1000, 1096, quindi chiaramente dovevamo dare un impatto visivo di quello che fosse il periodo. Oggi è passato un messaggio fondamentale perché anche i comuni piccoli come il nostro devono essere al fianco delle scuole del nostro territorio. Prezza c'è. Ora arriva il momento più difficile che è quello della realizzazione dei lavori. Il comune di Prezza ci ha messo a disposizione un discreto budget per l'acquisto di macchine che possono effettivamente agevolare il lavoro dei ragazzi. Grazie a tutti.